Benvenuti a Villa de Vecchi, la Casa Rossa. La leggenda e i racconti di paese dicono che la Casa Rossa fu abbandonata dopo che il conte trovò la moglie assassinata e la figlia scomparsa. Molti giurano di aver udito la menti di donna avvicinandosi a Villa de Vecchi, ormai abbandonata da oltre 50 anni. Sarebbe l'amante del conte Felice de Vecchi? Altri dicono si tratti della moglie e della figlia del conte. Nei primi anni venti Crowley e i suoi adepti iniziano un lungo viaggio attraverso l'Italia alla ricerca del posto giusto dove fermarsi e dare vita ad una comunità dedita al culto di Satana e ai sacrifici umani. Prima che Mussolini lo buttasse fuori dal paese per attività antifasciste la leggenda vuole che abbia preso in considerazione proprio la Casa Rossa. Ciò che accadde in quel luogo resta ancora oggi un mistero irrisolto. Cioè guarda, guarda che bel prato, eh? E guarda davanti, c'è. Non è inquietante di più. Ciao ragazzi! Tutto bene? Dai! Ciao! Fai andare da qua. La casa più infestata al mondo, una delle case più infestate al mondo, la vedete qua dietro di noi, adesso ve la facciamo vedere, proprio qua. È veramente un posto fantastico e abbiamo avuto delle esperienze super strong. Comunque questo è un posto davvero super infestato. Ciao! Ciao ragazzi! Oggi siamo qui? Mamma mia, è sempre un posto più bello. Siamo arrivati! Che meraviglia! Cioè guarda, guarda che bel prato! Sì, è pieno anche di buchi nel muro. Quindi adesso ci entriamo dentro e andiamo a visitarlo. Allora, stiamo andando. Allora, stiamo andando. Allora, stiamo andando. Allora, stiamo andando. Della Villa Rossi. Manosissima. Qua l'ingresso è un po'. Vedete che questo è un po' soffo? Sì. Sì. Poi, attenzione. Sì. Sì, ma non mi devi ripetere che entriamo a mazzo. Wow. Bellissimo. Molto. Quelle scale sono molto pericolanti. Però... Ci andiamo, eh? Sì. Ragazzi, come sempre, vi diciamo non venite in questi posti perché è pericolosissimo. C'è qualcuno. Mamma mia, guarda qua, Gè. Questo spazio nel muro è interamente bruciato. Allora, iniziamo le nostre rilevazioni con il K2. Sì. Sopra è impossibile salire. Questo qua non si può, però riprendi perché è bellissimo. Guarda. Guarda. Sì. Sempre sulle porte. Non ti ho ripreso. Sempre nei passaggi delle porte, sì. Qua, ragazzi, provo a farvi vedere, mi è crollato tutto. Vedete? Sono qua su in alto. Mi è crollato tutto, completamente. Allora, abbiamo provato a mettere il K2 all'interno di questo posto dove è tutto bruciato. E sembrerebbe che facciano qualche cosa. E proviamo a vedere se... È un cammino, magari. Non lo so perché non c'è... Sembra di sì perché c'è la canna là su. Perché magari l'hanno spaccato. Guarda, guarda il K2, non l'ho ripreso, cavolo. Cioè, noi siamo in mezzo alla stanza. Sì, guarda, guarda, rosso, rosso, è andato sul rosso. Cioè, ragazzi, siamo in mezzo alla stanza e lui è dentro questo cammino. C'è qualcuno qui con noi? Puoi illuminare il K2, puoi toccarlo. Bravo, così. Allora... Proviamo ad accendere la black box. Sì. E vediamo se... C'è qualche entità. È passato qualcosa davanti al telefono. Mi puoi dire il tuo nome? Cosa ti ha detto? Gigi. Ho capito un nome anch'io. Posso sapere il tuo nome? Guarda il K2. Sì, sì, lo sto riprendendo. Guarda il K2. Mamma mia. Ragazzi, siamo nella casa del custode. Cioè, basta, sei tranquillo. Lascialo. Mamma mia, come sta toccando lo strumento. Siamo, dicevo, nella casa del custode della Villa Rossa. E adesso stiamo utilizzando la black box per sentire. Ma pieno di cose che volano davanti qua. Ma non c'è niente qua. No. Guardalo, guardalo. Ancora. Vuoi dirci qualcosa? Io lo rimetto nel cammino. Non c'è niente qua. Sei l'anima del custode? Ho detto non sono. Ma in quanti siete? Questa ragazza è la scala che abbiamo appena fatto per salire. Pericolosissima. C'è un buco enorme. Per cui, come sempre, non venite in questi posti perché è pericolosissimo. O se venite perlomeno state attenti. Sì. O se venite fate veramente non attenzione di più. Di più. Siamo riusciti a salire nel sottotetto. È riuscante. C'è da qui. Si vede tutto. È laggiù. Vedete a sinistra la villa. Piano. Poi passi piano perché rimbomba tutto. Guarda il K2. Guarda il K2. Guarda il K2. C'è qualcuno qui con noi? Vuoi comunicare con noi attraverso il K2? Se vuoi lo puoi toccare per illuminarlo. Basta che passi qua davanti. Così. 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 Eccolo qua. C'è noi siamo qui eh. Sì. Cioè ragazzi guardate quanto siamo distanti dal K2. E lui continua ad illuminarsi sempre. Qua la presenza si sente. Soprattutto lì nella zona del pianoforte. Sì. Lì inizio era un strumento. Proprio un sacco. Continuava a fare così così. Solo per andare attento. C'è un sacco di gente. Non riusciamo neanche a fare delle cose fatte bene. Purtroppo siamo venuti qua ragazzi e ci sono un sacco di persone. Adesso magari aspettiamo che se ne vadano per riuscire a fare l'indagine. Più che altro volevamo fare la tavola. Sì. E farla in un contesto del genere. Risulta un po'. Sì impossibile. Però adesso vediamo un attimino se se ne vanno. Alla reggio. Ci mettiamo, la facciamo e... Eh ma non si può con un'altra energia. È vero. C'è ragione. Questa è l'acqua santiera. Cioè quello che resta dell'acqua santiera di questo posto. Mentre... Guarda che bella è questa santiera. Arrivo. Mentre questo qua invece è il famoso montacarichi. Con cui portavano le cose dal piano sotto. Dove dopo vediamo se riusciamo a scendere. E come vi abbiamo detto prima aspettiamo che se ne vadano le persone. Guardami. Il K2 ci risponde sempre. Perché quando fa così sempre mi addosso, giusto? Sì, è vicino. Ormai già si è fidanzata col K2. Facciamo fare tutte le meditazioni. Cioè vuoi comprarla? Sì. La mettiamo a posto. Sarebbe figo. Poi tu la purifichi. E siamo a posto. Dei, girati un attimo. Eh? Ok. Ah ti ho fatto una foto bellissima. Guardate che bello questo ingresso. Sono ancora le finestre. Cosa vuoi? Ti ho fatto di dentro. In questo caso ragazzi se sentite delle voci è perché ci sono delle altre persone e stiamo aspettando che vadano via per fare l'indagine. Per fare la tavola Ouija. Per fare la tavola Ouija. Cos'è che vuoi fare già la tavola? Ouija. Sei contenta? Sì. Se riusciamo a trovare il modo per farla sì. Bravo. C'è un altro che non c'è. Faccio qualche video. Fai anche le foto. Adesso proviamo a salire ragazzi in questo piccolo spazietto che c'è. Beh ma le stagini ci sono tutti scusate. Perché lì c'è la mazza che ce la saliamo? Non so saliamo una alla volta. Sì sì. Sono bastate due parole mangiate. Sono andati via. Tavola Ouija. Mamma mi c'è un altro discatinato già. Che sale ancora su. E dove sono andati via. Anna. Eh. L'inniacca. Nel video che di là questi sono spaventati che ho avuto l'attacco di panico. Sì. Ma c'è altra roba. Ok. Quindi facciamo dopo. Andiamo su e poi... Sì. Sì. Stiamo salendo su. Guardate quanto siamo in alto. Caraviglia. Già voglio provare ad entrare di qua. Dai. Che bello. Wow. Guarda. Ma che meraviglia. Siamo in questo cunicolo. Ok. Io tiro per i tasti e non tanto siamo. Qua siamo da soli ragazzi. Non ci sono più le persone. Mamma mia. Senti come cambia la temperatura qua. Sì. 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 Che cos'è questa roba? Sì. Sì. Oh che freddo che fa qua. Fa freddissimo. Guarda. Sì. Come sempre ragazzi. Il nostro K2. E vi ricordiamo che i nostri telefoni sono tutti in modalità aereo. Sì. Guarda K2 come si illumina. Se vuoi cammino così. Dicevo. Cosa c'è qua a sinistra? Guarda. Oh cazzo. Non ho capito. L'ho ripresa ma non ho capito cos'è. Le cupole del colpaio sotto. Ah ecco. Ah e guarda qua che è tutto rotto. Perché qua è crollato tutto. Praticamente ragazzi siamo sopra. Nella parte alta. Nella villa. All'ultimo piano. Bellissimo sto corridoio. C'è qualcuno qui? Sai che lì è proprio il punto in cui ho sentito. Senti qua. C'è un pezzo. Qua c'è aria. Fredda. Brava. Solo in questo punto. Si capisce da dove entra poi. È come se entrasse lateralmente. Sì. Ma solo qua. Prova a venire qua vicino questa volta. Solo qua c'è questo. Questo punto ragazzi è un punto dove sembra che la temperatura scenda sotto zero. Sì. Perché fa freddissimo. Solo in un metro. In questo pezzettino qua. Già poi vicino a livello. Senti freddo e poi. E comunque c'è la rietta e poi. Sì però. Senti chi è? Sì sì. Proprio lì solo c'è il gelo. Solo in quel punto. No vabbè ma anche lì dove lo io è. No. Lì non fa niente. Salmo 22. Andremo a leggere il Salmo 22 cosa significa. Sì ma di quello. Eh della Bibbia. Ah Bibbia. Sì. C'è un sacco di gente anche la giù. Già di gente. Ti dà fastidio se c'è tanta gente qua dentro? Sì guarda. Vero? Immaginavo. Probabilmente magari ci sta seguendo anche a noi. Sì. Allora ragazzi qua abbiamo. Se ci dà fastidio da tutto il caos che creano. Sì abbiamo percepito una forte presenza di entità. E io avevo anche un estro. Il freddo in quel punto. È come se qualcuno ci stesse seguendo. Però guardate gli chiediamo se gli dà fastidio la presenza ci saranno sotto non so. 15 persone forse. Sono persone che stanno in fronte e oltretutto urlano. Urlano e bestemmiano. Parlacce. Esatto. Quindi noi. Allora parlano di continuare a scrivere sui muri. E quindi vabbè. Noi continuiamo comunque ragazzi a girare la casa. Poi vedremo se riusciamo a fare qualche importante rilevazione con gli strumenti. Poi vedremo se riusciamo a fare qualche parte. 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 Poi vedremo se riusciamo a fare qualche parte.